Doppietta Secondo panchinaro manco primo Ma i giocatori che ho messo giocheranno titolari Quindi me la prendo un der culo In tutti i sensi Preparatevi a un video sfogo sul fantacalcio Martedì De quelli esagerati Non ce posso credere Ma poi c'avevo pure Cucca contro E' quello che mi fa rode ancor de più il culo Ciao Sì ciao Bella a tutti da me Cagliari Parma Ho appena assistito a una cazzata Siderale da parte di João Pedro Che si incazza con l'arbitro E quello giustamente Non so che gli ha detto Però qualcosa gli avrà detto Lo va ad ammonire per la seconda volta E lo manda negli spogliatoi Stai a vince Manca minuto dovevi uscire La potevi tranquillamente evitare Anche se Riguardando le immagini Non sembrava Non credo che ha detto qualcosa alla madre Alla zia o alla moi Però non si può mai sapere Detto questo 91 minuti e 33 Quindi 3 minuti di recupero La partita è quasi andata Cagliari che ha fatto la sua partita E' partito a bomba Pavoletti si è magnato un paio di gol E poi il Parma che passa in vantaggio Nel momento migliore sicuramente del Cagliari In generale diciamo perché comunque il Cagliari Aveva sicuramente creato di più Ma il Parma lo conosciamo E' una squadra che Quando riparte Sa ripartire E butta la palla in rete Ovviamente Cucca Ce l'ho contro Al fantacalcio Ci mette la capocia Cia la puttana E va bene Poi nel secondo tempo il Cagliari Che comunque ragazzi sicuramente ha fatto di più rispetto al Parma Ma il pareggio del Cagliari Arriva subito dopo Un'occasione da parte del Parma Inglese ha rischiato di portare il Parma In vantaggio di due reti E poi invece Pavoletti Prima ci mette la zampa Poi ragazzi miei Lo stanno ripassando adesso Adesso Ma detesta Pavoletti E' uno dei giocatori più letali Che c'è sta in Europa C'è sta poco da fare La verità Ogni cross lo prende di testa E la butta dentro No gli ho voluto da fiducia Stasettimana Perché comunque veniva da un periodo No Sapevo che giocavo in casa Però dico Mertens Guagliarella Milik E coso E Piontek So quattro Quello sarebbe Poi c'ho anche Zazza Ho detto vabbè Per stasettimana diciamo che Fattaca Vabbè Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al mio canale Qualora non lo aveste ancora fatto Bella partita De Barella Cagliari che secondo me Alla fine ha meritato la vittoria Battuta dal resto Per il Parma Che resta a 29 E non va a 30 Perché col pareggio Sarebbe andata a 30 Però questa è un'ottima vittoria Da parte del Cagliari Che allontana la zona retrocessione Tant'è che si porta a 24 E mi pare che Sta a 18-19 Il terzo ultimo Quindi insomma In ottica salvezza E' una vittoria molto importante Cagliari che comunque ragazzi Non gioca un cattivo calcio Ma anche il Parma Diciamoci la verità Quando riparte in contropiede Può essere sempre letale Finita in questo momento Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Nei commenti Io mi preparo a smadonnare Per questa sera Ma poi anche per domani E anche per lunedì Perché poi ci sarà la Roma La ciliegina sulla torta Tra fanta calcio A me poi guarda Rosico come Un gol ci poteva pure Sta O rosicato comunque Però ragazzi Una doppietta Secondo panchina Non mi ruote veramente Il bucio del culo Ciao